Ci siamo, domani è la giornata della camminata rosa, giunta alla sua settima edizione. Si partirà da Viale San Modestino a Mercogliano, dove il raduno è previsto alle 8.30. I partecipanti potranno accedervi attraverso tre barchi, via Malzoni, via Sibiglia e scaletta di piazza Atanasio, previo controllo del green pass e apposizione del timbro che autorizzerà la partecipazione alla manifestazione. Il taglio del nastro è previsto alle 9.30, poi si partirà verso Avellino, distanziamento e mascherine saranno obbligatori durante tutta la durata dell'evento. Quest'anno la marcia rosa terminerà con l'arrivo a Rione Mazzini, dove nella chiesa Maria Santissima di Montevergine alle ore 12 sarà celebrata la Santa Messa. La camminata rosa e la celebrazione eucaristica saranno trasmesse in diretta dalle nostre emittenti Prima TV Canale 90 e Tele Nostra Canale 189. Intanto, nell'ambito del tour dei camper della salute dell'Asl, domani sarà presente un'unità mobile durante l'appuntamento con la camminata rosa. Il camper sosterà dalle 8 alle 10 a Mercogliano nel piazzale antistante La Funicolare, per poi spostarsi ad Avellino presso la chiesa di Rione Mazzini dalle 11 alle 14 per effettuare le vaccinazioni. Anche l'Aerra sarà al fianco delle associazioni impegnate nella sensibilizzazione alla prevenzione del tumore a seno. Domenica, infatti, l'azienda di trasporto effettuerà il servizio navetta da e per Mercogliano per consentire ai partecipanti di raggiungere Viale San Modestino, previste corse di andata dalle 8 alle 9.30 e di ritorno dalle 11 alle 13.30. Il servizio navetta partirà da via Carlo del Balzo d'Avellino e seguirà il seguente percorso via Guarini, via Colombo, via Nazionale Torrette, Torelli di Mercogliano, Mercogliano. Grazie a tutti.